Guarda, sta diventando strabico qua Vai dietro, vai dietro Guarda come fa con gli occhi Non ci capisce più nulla Sei bruttissimo, signor polipo Sei proprio brutto brutto Non capisci più niente, vero? Non capisci più niente Eh no E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stef, e che senti che chiamiamo Roblo E oggi ragazzi siamo in un nuovissimo escape In cui dovremmo scappare dalla terra dei dolci Di nuovissimo c'è poco perché mi sa che è del 2008 L'hanno appena aggiornato, quindi è arrivato subito tra i più popolari Quindi chiamiamolo nuovissimo Ok, comunque dovrebbe essere Candyland, giusto? Si chiama così Candyland Obby, esatto Perfetto, mi piace tantissimo ma prima di tutto guardate quanto siamo belli Allora abbiamo Fereniki che è diventata Un mostro Hai mangiato qualcosa che ti faceva un po' di allergia Perché ti vede un po' gonfia, non so È ovviamente una maschera da mostro, dai L'ho vinta tra i primi di Halloween Quindi mi sembra giusto metterla dato che siamo a tema E tu hai degli occhiali da sole Semplicemente degli occhiali da sole Sono un agente segreto Iniziamo? Iniziamo È un po' particolare perché ovviamente dovremmo entrare in questo portale Giusto? Sì Ma che posto strano che è però Ma a te non fa entrare? No Entra e riesci Entra e riesci fino a quando non funziona Perché non posso entrare? Eccomi, eccomi Sai perché? Sì Perché anche il gioco capisce che è impossibile che io debba scappare da dei dolci Cioè è impossibile Hanno paura che mi mangi tutto il panorama Quindi Però c'è un polpo che credo che non ti piace Quindi No il polpo no Cioè non c'entra nulla Vediamo No ma aspetta Ok Gli occhi si muovono Aiuto Mi sa che ci segue Guarda eh Aiuto Ma è terribile Mamma mia Poi hanno messo gli occhi realistici Fa troppa paura Ok Guarda se l'ho l'occhio di sinistra Aspetta Facciamolo flippare Guarda Guardalo Questo è il checkpoint Sì Perfetto E quello è da saltare ovviamente Pensavo dovessi saltare su quelli viola Vabbè Mi sono un po' confusa Va bene Nuovo portale E tutto portali Sì 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 In cui io non posso mai entrare Ma esattamente Per Candyland Cosa intendevano Perché Oh questo è il tuo livello Questo è il tuo livello Guarda non lo so Io ho letto Candyland Hobby Mi è sembrato Ma ci hanno fregato O prima o poi arriviamo alle caramelle Non lo so Vabbè Prima c'era la barretta di cioccolati Biscotti Non lo so Non è giustificato Quella non era una Candyland Quello poteva essere un cioccolatino Land La Candyland È totalmente diversa Non discutere Guarda Solo per il polpo che muove gli occhi Vale la pena di giocarlo Ti dico la verità Senza dubbio Non lo dimenticherò mai nella vita Oh ma che bello questo Sì Mi piace ambientato sott'acqua No È un acquario sott'acqua E noi siamo dei pesciolini Continua a non capire cosa c'entri nei dolci Però va bene Va bene Va bene È perché è l'ultimo livello Capito Cioè tu adesso continui Fai tutto un viaggio Per arrivare a Candyland Guarda Non c'è Candyland Ma è bellissimo Dall'acquario Siamo passati alla spiaggia E c'è di nuovo un polpo Però rosa Andiamo E non ha gli occhi stavolta No eccolo Eccolo Stava dormendo e l'abbiamo svegliato Scusi signor Polpo Non lo vogliamo disturbare È così carino Rosa Allora Un po' di privacy qui Ci sta sempre a fissare Ci lascia in pace Allora Noi stiamo semplicemente facendo un po' di saltellini Flippiamolo di nuovo con gli occhi Vai Guarda sta diventando strabico qua Vai dietro Vai dietro Guarda come fa con gli occhi Non ci capisce più nulla Sei bruttissimo signor Polipo Sei proprio brutto brutto Non capisci più niente È vero Non capisci più niente Posso accettarlo? Eh no Ci sono degli ombrelloni Andiamo Andiamo Forza 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 Vedo anche Secondo te Ci pungiamo se saltiamo su questo pesce palla? Non è la più polide Oh che carino Ma non gliel'avevo vista la faccia È carinissimo Ti aspetto Arrivo No no vai 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 dentro 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 La forza Arrivo Vado vado Oui Ok Ecco finalmente il mio livello Davvero? Davvero? Guarda Siamo arrivati a Candyland Finalmente abbiamo viaggiato per il mondo Nel mare Nei fondali marini E siamo arrivati a Candyland Te l'ho detto che era tutto un viaggio per arrivarci Avevi ragione Avevi ragione Vedo di ciupa ciupa lì a destra Poi una barretta di cioccolato Queste sono le Smarties Vedi? Ah Io pensavo che Candyland fosse un bel posto E invece no E invece tocchi le cose e muori Capito Per fregarti Perché tu sei convinto che I dolci non possono farti male E invece ti uccidono Ma come lo facciamo questo? Credo che dobbiamo saltare Ok Sì 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 Salti un pochettino così non li tocchi Ok Disgraziati questi dolci sono un po' brutti Sennò avariati Ma questo? Ah no Ah no pensavo di dover andare in lecca a lecca Invece no Budini No sono le gelatine queste Vedi non si è asperto di dolci come me Vedi non puoi competere con me Io vorrei un budino Il master pro dei dolci che sarei io Datemi i budini Oh 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 Stavo per cadere Forza 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 Oh ok Ci sono Cosa ci sarà adesso? Non ne ho la più pallida idea Cosa ci aspetta dopo Candyland? Magari un'altra Candyland? Aspetta dove sei finito scusami? Ok Cos'è? Un'officina Ma cosa c'entra? Perché siamo finiti in un'officina Non capisco Vabbè Ora il gioco si fa serio Infatti mi sono messo gli occhiali ancora meglio Perché adesso è pericoloso Guarda Cioè ma ti sembra che ci fanno passare dei dolci A queste cose terribili Ma io non ne ho No aspetta come lo facciamo scusami? Secondo me nel momento in cui è più basso Tipo ora No non mi fido Non mi piace sta cosa Aspetta Mamma mia ora Ora Ok Tutto a posto lì signorina Terribile sto livello Sì sono un mostro Non ho paura di nulla Eccomi Eccomi Dovresti averne anche tanta L'ultimo assieme Sei pronto? No Allora sono morta Hai buggato il gioco Cioè mi volevi uccidere saltandomi sulla testa Sei una persona terribile Non è vero No aspettami Guarda Boom Ok quindi sicuramente quelle palle ci distruggono Ok le ho superate Ma adesso siamo in un'isola con i vulcani E c'è la lavatuta per terra Sto corsa dritta E beh sì stiamo continuando il nostro viaggio nel mondo Tutto di fila Tutto di fila Tutto di fila Bravissimo Steph Oggi gli occhiali mi fanno fare i salti più belli Ho notato sì Ho notato Vedo meglio Capito Sì 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 ti fanno vedere meglio negli escape Sei fantastico Grazie Sì sì Ti fido? Sì vai 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 Aiuto ma fa una paura incredibile Sì fai attenzione perché sei lì per cadere però fa farlo dritti Ok Io l'avrei fatto tutto saltando ma tu sei davvero coraggiosa Eh sì lo so grazie Non hai avuto neanche paura della lava Ma come fai? È incredibile No no Tra l'altro affaccio la mostra non mi fa avere paura di nulla Quindi funziona così Tu non te la sei messa quindi non puoi capire Il bagno nella lava facci vedere che non hai paura No grazie Andiamo al prossimo livello Oh carino muoviti Muoviti Vieni Aspettami Aspettami arrivo È molto carino guarda Bello Mi piacciono sono tutti molto colorati Tutti Oh mio Dio Sei matto Io ho fatto perché stavo urlando nel momento in cui l'ho pensato Sono salita nella medusa e sono stata sparata in aria Ho avuto paura Mattersi Vedi mi piace perché anche se non è tutto a tema dolci Almeno i livelli sono molto diversi tra del loro Io ci riprovo perché sinceramente non ho capito neanche come si dovrebbe fare Allora Ok Ok Devi centrare l'altra Esatto Ok Aspetta Incredibile Ok L'ultimo l'ultimo Forza che ce la puoi fare Io neanche ti vedo più Eccoti Ce l'ho fatta ce l'ho fatta Bellissimo questo Che bellino questo castello Sì è molto bello Andiamo Saliamo sopra le stelle marine E adesso dobbiamo rischivare le palle Però questa volta sono molto di più Quindi devi fermarti in mezzo e stare attento a non toccarle Esatto Allora Ok Devi proprio guardare quando scendono Ok Ok Dov'è la prossima? Rischio un po' Ok Fatto 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 Ok Oh no c'è di nuovo Arriva 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 Bravissima Guarda qua c'è di nuovo Uuuuh Aiuto Fa troppo paura essere sbalzati così tant'in'aria Aiuto aiuto C'è un problema non so cosa sia questo posto Guarda Dove siamo? Affacciati un pochettino Queste sono Attenta perché è rotto lì No se guardi Vedi che quella lì è la pentola d'oro Quella che trovi con i folletti magici Fermati Sto rotolando Eh sì Eh sì esatto Sta bene signor Eeeh Dove sei finito? Eccoti Allora Allora Sono un po' confusa No No ho capito adesso Ascoltami Come ci arriviamo? Ascolta me Iuto Torna indietro Torna indietro Continua a cadere Salta 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 Al mio 3 Tu stai qua Stai qua Stai qua Ok Tu senti me Al mio 3 corri dritta Ok 3 2 1 Vai Io vado Mi sono incastrato Aspetta Aiuto Ho capito Ma è fantastico A me non ha funzionato No fallo epico Fallo 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 Voglio rotolare anche io Vai vai Continua 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 Vai Andiamo E siamo arrivati alla fine Finito È bellissimo È bellissimo È bellissimo È davvero bellissimo Super Mega Epico Allora cosa sono questi? Eh non lo so Che è? Fly No tieni premuti Aiuto In ogni caso Abbiamo un'altra cosa da provare Quindi ci fermiamo qui così Ma adesso andiamo in un altro Escape Trattino Hobby E lo proviamo Sapete dove siamo? Siamo in un hobby Fatto Apposta Per noi Esatto È stato creato dal consolino Diego Ci tengo tantissimo a ringraziarlo E si chiama proprio Two players One console Hobby Quindi come non provarlo subito in un video Esattamente Ovviamente se ci volete creare delle mappe Basta che le fateci avvertite Potete avvertirci su Roblox Su Youtube Dove volete Esatto E noi cercheremo sempre di provarle Ci divertiamo un sacco E direi di iniziare subito Iniziamo È super emozionante fare un hobby dedicato a noi È venuto anche un altro consolino a provarlo Quindi siamo anche già in tre a provarlo Allora Qua si fa già un pochettino più seria la cosa Ok E qui perché sono colori diversi Oh mamma mia Che succede? Non te lo dico vai Guarda un attimo l'ambientazione Guarda questa No 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 Vieni 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 Ah ecco Ma Pasalto Non immaginavo Ci staresti morta al 100% Oh aiuto 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 Veloci veloci Volevo vedere anche io infatti qualcosa gigantesca È bellissimo Uno zombie enorme E nella spalla c'è un altro zombie Esatto esatto Bellissimo Forza No No ma è fantastico Ma siamo bellissimi Guarda la cosa Mi piace questa cosa perché sai negli hobby ti puoi trasformare solo alla fine Invece questo trasformarti in mezzo è bellissimo È stata geniale come idea Mi piace Mi piace un sacco Allora ma qua Adesso sarà più difficile perché siamo giganti Sì esatto Non vedo bene Aiuta Vai diventiamo un gigante Ah sono morta Ah non posso più trasformarmi Era troppo grande come facevo a capire Io ce l'ho fatta Allora no voglio farlo ritrasformata Ci riprovo Ok E muoio al primo Yeah E lì come ci arrivo? Aspettami però No Aspetta Che stai combinando? Aspettami Niente niente È tutto a posto Adesso che devo fare? A prendere le armi Oh mio dio Ma come sei arrivato a prendere le armi? Non sto capendo Mi sa che le puoi prendere solo una volta E le ho sprecate tutte No è qua Riappare Aspetta Che cos'è quella? Aia La smetta per favore È una pistola In ogni caso piccolino ma carino Grazie mille per avercelo fatto Come abbiamo detto Se volete farcene altri Fate pure Li giocheremo in live Li giocheremo appunto ogni tanto Come seconde party di un video Esatto Esatto Quindi divertitevi a creare delle mappe per noi E noi ci divertiremo tantissimo A giocarle Potete farle sia bellissime Sia brutte di proposito Perché vogliamo iniziare a portare Anche delle cose proprio brutte Ma proprio brutte su Roblox Penso che possa far ridere Esatto Anche a creare delle schifezze improponibili Che ci faranno venire soltanto dubbi nella vita Esatto Bene che se vi riesce così Su un città Sto diciamo il like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao